11 milioni di euro versati da Leni destinati a Gela e improvvisamente spariti. Fondi che il colosso industriale ha versato, così come prevede la legge a favore dei comuni in cui ricadono le concessioni mineralie. Quei fondi dovevano servire per finanziare 5 progetti che interessavano il rifacimento del centro storico che lo scorso anno, sotto l'amministrazione Fasulo, sono stati regolarmente presentati. Il caso è stato sollevato dal consigliere comunale di Polo Civico Guido Siracusa. Per il consigliere comunale, quei soldi avrebbero preso un'altra strada e sarebbero finiti altrove, nonostante, rimarca Siracusa, il capitolo fosse blindato. Crocetta, sottolinea il consigliere, si è dimenticato di Gela, ma cosa ancora più grave ha calpestato quello che per Gela era un diritto acquisito. Sulla vicenda è intervenuto il capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotta. Basta polemiche sterili e dannose, dice Cirignotta. Bisogna invece intraprendere delle azioni costruttive che possono portare benefici alla nostra città. Un plauso va ai consiglieri e ai componenti della Commissione di Sviluppo Economico per l'impegno che stanno profondendo per ricostruire l'intera vicenda. Finora, dice ancora l'esponente del PD, c'è stata solamente una corrispondenza interlocutoria tra il Comune e la Regione. Ciò non di meno, le somme in questione e su autorizzazione della precedente amministrazione comunale sono state stornate dalla Regione nel capitolo attinente alla manutenzione straordinaria delle dighe. Queste somme, assieme ad altri 10 milioni di euro previsti dal Patto per il Sud, saranno impiegate per rendere funzionali le dighe, dando finalmente una risposta importante al settore agricolo, un settore dimenticato oramai da torpo tempo dalle istituzioni. In un momento storico dove la scarsa piovosità provoca la siccità, ritengo, rimarca Cirignotta, che la scelta politica del Presidente della Regione di utilizzare quelle somme per improgastinabili interventi strutturali sulle dighe sia una scelta azzeccata e ben ponderata. Senza acqua delle dighe non si può pensare ad uno sviluppo dell'agricoltura del territorio. Da informazioni dei miei assunte, aggiunge Cirignotta, sono immediatamente spendibili nel capitolo delle compensazioni minerarie ulteriori 6 milioni di euro. Il capo gruppo del PD invita l'amministrazione comunale a trasmettere da subito alla Regione i progetti esecutivi per l'impegno delle somme, in quanto rimane fermo l'impegno dell'amministrazione regionale al finanziamento dei progetti nel giro di qualche settimana. Adesso sarà compito dalle forze politiche locali di riferimento del Governo regionale vigilare affinché l'iter per il finanziamento dei progetti si concluda nel più breve tempo possibile, in modo da consentire l'apertura di cantieri che potrebbero dare una boccata di ossigeno all'economia locale.